Mi fratelli e sorelle, allora questa sera voglio parlarvi di mormori, di ribellione e anche di dottrine diverse. Considerato quello che è successo nei giorni scorsi, alcune faccende che hanno richiesto l'intervento e anche l'applicazione di una certa disciplina e l'allontanamento di una persona. Purtroppo non si è potuto fare a meno. Ma tra le ribellioni, quelle più conosciute, ad esempio Giuda cita Necita 1, che poi andiamo anche a leggere. Noi andiamo a leggere nell'Epistola di Giuda, al versetto 11, leggiamo. Siccome l'Epistola di Giuda parla di falsi dottori, parla di dottori che si trovano in mezzo alla Chiesa e che hanno rinnegato il Signore, si sono sviati dalla verità. E tra le parole che Giuda usa per parlare di queste persone sviate c'è anche questo ammonimento. Dice al versetto 11, si riferisce a questi, perché l'Epistola di Giuda è molto simile al secondo capitolo della seconda Epistola di Pietro, dove parla appunto dei falsi dottori. Come ci sono stati dei falsi profeti in mezzo a Israele, così ci sono sia falsi profeti oggi in mezzo alla Chiesa, ma ci sono anche falsi dottori, cioè falsi dottori che un tempo magari erano veramente dei dottori. E a un certo punto si sviano dalla verità, si sviano per qualche motivo e non insegnano più la sana dottrina, la verità. Si danno a insegnare altre dottrine e questi si ribellano, praticamente si ribellano alla verità di Dio, si ribellano anche ai servitori di Dio, a quelli che rimangono fermi nella fede e nella verità. In Giuda, leggiamo al versetto 11, parlando di queste persone, perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Vedete? Questi qui praticamente cosa fanno? Si incamminano nella via malvagia di Caino. Caino che cos'era? Era un assassino, odiava suo fratello, l'ha odiato e l'ha ucciso. Queste persone sono violente e odiano. Cominciano a odiare, magari prima non lo erano e poi cominciano ad esserlo. Poi ci sono quelli che per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam. Cioè Balaam era un profeta di Dio che si è venduto. Balak lo ha chiamato per denaro a maledire il popolo di Israele. All'inizio resisteva ma poi ha ceduto e ha insegnato. E ha insegnato a Balak a porre degli intoppi al popolo di Israele per farlo peccare. Gli ha detto a Balak per far crollare, per far cadere il popolo di Israele doveva fargli mangiare cibi sacrificati agli idoli e doveva sedurlo attraverso le donne. Vedete? E infatti furono sedotti. Molti ne morirono in quei giorni di giudizio di Dio verso il popolo di Israele. Chi gli insegnò a Balak a porre di questi intoppi al popolo di Israele? E glielo insegnò appunto Balaam. Glielo insegnò Balaam. Che amò il denaro, praticamente. Poi, qui Giuda ricorda anche Core. Che andiamo a leggere. Core era una persona importante di Israele. quando Israele si muoveva nel deserto. E la caratteristica di Core con Datan, Abiram, On e altri, e tanti altri, è che si ribellarono a Mosè. Cioè si misero contro Mosè. Che era il servo di Dio. E che andiamo a leggere i numeri. Adesso andiamo a leggere, nel libro dei numeri, al capitolo 16, leggiamo la storia che riguarda la ribellione di Core, Datan e Abiram. Dobbiamo leggerla tutta perché è importante. Bisogna riflettere su queste cose. Perché purtroppo, badate bene, citiamo questi passaggi. E li ha citati anche Giuda. Vedete, è importante che l'ha citato Giuda nel Nuovo Testamento. Perché quello che è avvenuto nel passato, questo tipo di ribellione, l'ha citato anche Giuda. Relativamente a persone malvagie che si trovavano in mezzo alla Chiesa ai suoi tempi. E questo vuol dire che questi ribelli, questi uomini ribelli, noi li possiamo trovare in mezzo alla Chiesa sempre, in tutte le epoche. Quindi il fatto che fa riferimento Giuda ci permette di andare a esaminare nel libro della legge, nel libro dei numeri, quello che Core, Datan e Abiram hanno fatto perché sono delle cose che ancora oggi avvengono. Cioè, ancora oggi ci sono di quelli che si ribellano alle autorità che Dio ha stabilito. Cioè, la caratteristica più importante è qual è? È che Dio stabilisce i Suoi servitori, i Suoi ministri. Quando Dio li stabilisce, qui stiamo parlando però di quelli veramente stabiliti da Dio, perché se noi ci mettiamo a, diciamo, a monire di presunti ministri di Dio che invece non lo sono, non rientriamo nella ribellione di Core. Cioè, noi ci ribelliamo ai malvagi in quel caso. La ribellione verso gli uomini malvagi è giusta, è corretta, bisogna che ci sia, che avvenga. Quello che non bisogna fare, piuttosto, è ribellarsi contro i veri servi di Dio. Quindi qui serve discernimento. Cioè, i fratelli, per prima cosa, devono valutare se veramente hanno a che fare con un servo di Dio. E poi, se riconoscono che una tale persona è un servo di Dio, un ministro di Dio, è chiaro che contro di lui non si possono ribellare, a meno che non sbaglia grossolanamente quel fratello. Eh sì, perché è possibile sempre che uno sbagli. Allora ci opponiamo se insegna delle falsità evidenti, chiare, o se ha una condotta scellerata. Ecco, allora noi ci opponiamo. Ci opponiamo a questi, anche se sono dei veri ministri di Dio, se dimostrano di sviarsi dalla verità, noi ci dobbiamo opporre. Quindi bisogna sempre vegliare, cioè stare svegli, attenti, in guardia. Però è vero anche che se questi fratelli sono stati costituiti da Dio, è importante non ribellarsi, ascoltarli. hanno qualcosa da dire, perché sono stati messi da Dio apposta per questo. Quindi devono, 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 bisogna, bisogna che siano ascoltati e non ci si deve ribellare a loro. Soprattutto senza motivo, senza motivi validi, perché alcuni si ribellano solo per gelosia e invidia. Non è che si ribellano perché hanno subito un torto, si ribellano solo per gelosia e invidia. Cioè non riescono ad avere lo stesso, secondo loro, secondo il loro punto di vista, lo stesso credibilità, la stessa credibilità che Dio ha voluto dare, la stessa autorità che Dio ha voluto dare al ministro, e questi si prendono di invidia, di gelosia. Ed ecco quindi che lavorano dietro contro i ministri. Però una volta che queste persone vengono poi scoperte, è chiaro che vanno ammoniti. Se si pentono, bisogna perdonarli e bisogna, bisogna riametterli nella Chiesa. Ma se sono impenitenti, cioè se non si pentono, quindi non riconoscono di aver sbagliato, e vogliono rimanere nel loro peccato, ecco che allora bisogna estrometterli dalla Chiesa. E non c'è un'altra cosa da fare. Non si può fare altrimenti. Bisogna, diciamo, mandarli via, allontanarli. Bisogna che la Chiesa, non solo chi li manda via, deve interrompere la relazione con loro, ma tutti quelli che si riconoscono in una certa dottrina, nella sana dottrina, nella vera dottrina di Dio, della parola e degli apostoli. Tutti questi, una volta che si sono, i fratelli che si sono documentati del fatto che è successo, essi devono poi schierare, da una parte o dall'altra, ma non si può stare da tutte le parti. E quindi bisogna che tutti partecipino all'applicazione corretta della disciplina, espellendo tutti quanti quella persona. Affinché questo a che cosa serve? Non è che questo espellere porta per forza di cose in perdizione, non è questo lo scopo di allontanare una persona. Lo scopo di allontanare una persona è quello di farlo vergognare, di isolarlo, di fargli vedere che cosa aveva e che cosa sta perdendo e quindi quando gli mancherà allora potrà vergognarsi, riflettere, vergognarsi e poi magari arrivare a pentimento, pentirsi, ravvedersi dei suoi errori, della sua ribellione e poi chiedere perdono. Se chiede perdono poi sarà sicuramente perdonato e riabilitato nella Chiesa. Le cose vengono male quando vengono fatte a metà. Se metà delle persone non gli toglie l'amicizia, faccio un esempio, non lo allontano e una metà sì, questa persona ribelle non si ravvederà mai, non rifletterà mai perché si sentirà forte del fatto che metà sono con lui, quindi non sono d'accordo con la disciplina che è stata applicata. Quindi ecco, nella disciplina ci vuole, ci vuole anche qui, ci vuole una comunione, ci vuole il pari consentimento, cioè ci dobbiamo muovere insieme. Non è che è un obbligo per dire io dico ordino e tutti devono mandarlo via, cioè non funziona in questa maniera, lo si fa perché si ha pari consentimento, non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, capite? Perché lo si fa per farlo vergognare, per farlo pentire, farlo tornare alla verità. Per il suo bene, per il bene dell'anima sua, capite? per il bene dell'anima sua. Quindi, siccome quello che è scritto per là dietro è stato scritto per nostro ammaestramento, ora leggiamo la ribellione che è avvenuta ed avviene ancora oggi in questa maniera, capite? Con qualche differenza, ma la ribellione ancora oggi alcuni ci sono che si ribellano alle autorità che Dio ha costituito. In questo caso noi leggiamo la ribellione di Core, cioè voi dovete sapere che Mosè non si è costituito lui condottiero del popolo, liberatore del popolo di Israele, non è lui che ha detto voglio essere questo, è stato chiamato da Dio, è stato messo lì da Dio a fare quello che doveva fare. quindi se è stato messo lui, se il sacerdozio è stato dato ad Aron e ai suoi discendenti, è Dio che lo ha stabilito, quindi l'uomo, gli altri non si devono ribellare, non devono andare contro alle scelte che Dio ha fatto, perché la vera ribellione degli uomini dove sta? Non sta tanto contro Mosè o contro gli uomini che Dio ha stabilito, ma la vera ribellione è all'opera che avviene contro l'opera che Dio ha compiuto. Se Dio ha costituito un dottore, un ministro, un pastore, e delle pecore gli vanno contro ingiustificatamente, perché se i motivi ci sono, se i motivi sono giusti, certo che bisogna andare contro uno che sbaglia a parlare, uno che insegna dottrine sbagliate, false, uno che si conduce in maniera disordinata, allora sì che ci opponiamo tutti, è obbligatorio, ma se invece non c'è niente di tutto questo, anzi cercano dei pretesti, allora non si va contro l'uomo, ma si sta andando contro l'ordine costituito da Dio, ci si sta ribellando contro Dio, quindi bisogna fare attenzione, ci sono stati questi ribelli e purtroppo ci saranno ancora, si verificherà ancora, non so quando, non so chi, ma queste cose le diciamo prima così, così si vedrà che quando succederanno si vedranno le cose che sono state dette che si verificano, perché si verificheranno ancora, purtroppo, è scritto tutto per nostro ammaestramento e è quello che è scritto si verifica, la parola di Dio si adempie. Ora leggiamo ciò che riguarda la ribellione di Core, di Datan e Abiram, siamo al libro dei numeri, al capitolo 16 dal primo versetto, prendete le vostre Bibbie e apritele e leggete dalla vostra Bibbia di carta. Orcore, figliolo di Izzar, figliolo di Keat, figliolo di Levi, insieme con Datan e Abiram, figlioli di Eliab e On, figliolo di Pelet, tutti e tre figlioli di Ruben, presero altra gente e si levarono su, in presenza di Mosè, con 250 uomini dei figlioli di Israele. Principi della Raunanza, membri del Consiglio, uomini di grido e radunattisi contro Mosè e contro Aronne dissero loro basta tutta la Raunanza, tutti fino ad uno sono santi e l'Eterno è in mezzo a loro perché dunque vi innalzate voi sopra la Raunanza dell'Eterno. Vedete, questa era questa era la ribellione. Di che cosa lo accusavano Mosè? Di che cosa li accusavano Mosè ed Aronne? Li accusavano di essersi innalzati loro, badate bene, come se si fossero messi loro a capo del popolo di Israele. Mosè non si è messo lui, Aronne non è stato costituito da se stesso, non si è autocostituito sacerdote ma sono cariche che Dio ha stabilito che ha dato a chi ha voluto lui. Quindi la ribellione di... Vedete poi come fanno massa? I ribelli cercano sempre di fare un certo numero perché facendo un numero si sentono più forti, si convincono di avere ragione perché la loro ragione vedete è stata abbracciata da un certo numero di persone ed è quello che io volevo farvi capire che se quando si applica la disciplina e si allontana qualcuno e lo si tiene ancora nelle proprie amicizie nella propria comunione avviene proprio questo tu stai spalleggiando la ribellione è così purtroppo è così o hai un altro motivo valido oppure stai spalleggiando stai spalleggiando la ribellione non lo stai di certo aiutando e così ha raccolto delle persone questo questo core ha raccolto delle persone che andarono contro Mosè contro Mosè come come si rispose Mosè al versetto 4 quando Mosè vi ho detto questo si prostrò con la faccia a terra poi parlò a core e a tutta la gente che era con lui dicendo domani mattina l'Eterno farà conoscere chi è suo e chi è santo e se lo farà avvicinare farà avvicinare a sé colui che gli avrà scelto vedete vedete la cosa importante le cose sono molto importanti queste che è Dio che sceglie è Dio che sceglie coloro che salva che devono essere salvati è Dio che sceglie i suoi ministri è Dio che sceglie le persone per fare determinate cose capite è Dio che sceglie quindi se è Dio che sceglie noi dobbiamo stare attenti non ci possiamo opporre alle scelte fatte da Dio a meno che come ho detto non ci siano cose importanti e gravi importanti e gravi da far notare che bisogna contestare determinate cose quindi non è che uno deve stare zitto e obbedire senza valutare le cose no bisogna fare come i bereani quello che viene detto viene esaminato e dopo se viene ritenuto biblico allora bisogna farlo bisogna praticarlo anche la disciplina fa parte delle sacri scritture anche la disciplina e la Chiesa deve partecipare insieme all'applicazione all'applicazione della disciplina fate questo prendete dei turiboli tu core e tutta la gente che è con te e domani mettetevi del fuoco e ponetevi su del profumo dinanzi all'Eterno e colui che l'Eterno avrà scelto sarà santo basta figlioli di Levi Mosè disse inoltre a core ora ascoltate o figlioli di Levi e egli poco per voi che l'Idio di Israele vi abbia appartati dalla raunanza di Israele e vi abbia fatto accostare a sé per fare il servizio del tabernacolo dell'Eterno e per tenervi davanti alla raunanza affin di esercitare a pros suo il vostro ministerio egli vi fa accostare a sé te e tutti i tuoi fratelli figlioli di Levi con te e cercate anche il sacerdozio cosa era successo era successo che i figlioli di Core essendo tra i figlioli di Levi avevano ricevuto l'incarico da Dio erano stati quindi scelti vedete scelti per fare il servizio nel tempio nel tabernacolo allora tabernacolo che era diciamo si smontava e si spostava perché erano ancora nel deserto in viaggio ma poi quando fu costruito il tempio i leviti svolgevano determinati servizi nel tempio vedete non è che erano stati avevano ricevuto qui dice Mosè un ministerio anche loro però cosa guardavano guardavano al ministerio degli altri guardavano al ministerio di Aronne che aveva il sacerdozio capite quindi non si applicavano a fare a concentrarsi sul proprio ministerio ma guardavano quello degli altri è quello che purtroppo i ribelli oggi fanno questo magari Dio gli ha dato un incarico qualcosa da fare delle capacità dei doni col quale può servire la chiesa secondo il dono e la misura di grazia che Dio gli ha dato e quello gli ha dato e quello deve fare però purtroppo ci sono quelli che si gonfiano si inorgogliscono si pensano di essere come diceva core santi siamo tutti santi siamo tutti sacerdoti davanti a Dio siamo tutti uguali sì uguali come uomini come dignità va bene ma come incarichi nella chiesa non siamo tutti uguali ognuno riceve una misura di grazia e ognuno riceve dei doni da Dio ecco quindi ricevendo dei particolari doni da Dio deve mettere in pratica quelli cioè il corpo di Cristo che è la chiesa è composto di molte membra quindi non tutti i membri possono fare la stessa cosa c'è chi fa una cosa e chi ne fa un'altra ma noi non dobbiamo guardare a quello che fanno gli altri cerchiamo di fare bene quello che Dio ci dà in carico a noi di fare poi se un altro è dottore gloria a Dio un altro è profeta gloria a Dio per lui un altro sarà apostolo un altro sarà pastore un altro sarà evangelista uno sarà diacono l'altro sarà anziano l'altro sarà comunque aiuterà le assistenze i governi chi prega chi chi compie comunque delle opere per il Signore ognuno deve quello a cui è chiamato a fare lo deve fare bene lo deve fare bene quello che ti ha chiamato il Signore a fare non quello che tu pensi di voler fare e ti piace fare guardando gli altri capite quindi attenzione facciamo attenzione perché questi pericoli ci sono sempre e ci saranno sempre ci sono sempre stati e ci saranno sempre quindi noi dobbiamo sapere trovare la nostra posizione nella Chiesa o per chiamata di Dio o comunque perché uno si sente ma mai guardare attaccare l'opera degli altri per invidia o per gelosia capite queste sono cose che non vanno bene comunque cosa ha fatto cosa ha fatto cosa hanno fatto questi core dat e abiram si sono ribellati a Mosè in verità si sono ribellati all'ordine che Dio ha stabilito cioè il Dio ha stabilito Mosè ed Aronne e questi che si sono ribellati si sono ribellati veramente contro Dio non contro l'uomo e guardate cosa è successo poi vado direttamente la conclusione di questa ribellione dopo Dio è dovuto intervenire ed è intervenuto in una maniera devastante per queste persone malvagie che si sono messe contro Dio e contro i Suoi servitori questo è importante perché badate bene prima di andare contro qualcuno dobbiamo essere sicuri che quello lì sta sbagliando perché se non siamo sicuri che sta sbagliando ed è un ministro di Dio veramente allora bisogna stare attenti perché tu non stai andando contro un uomo stai andando contro colui che lo ha stabilito capite cioè se uno oggi si ribella all'autorità no alla alla polizia ai carabinieri se uno si ribella in realtà sta facendo guerra allo stato italiano capite non è solo che ti stai ribellando a quella persona che se quella persona ha sbagliato gravemente va bene ci sono le sedi opportune per poter difendere la tua la tua i tuoi diritti ma se le autorità non sbagliano e uno si ribella stai solo facendo la guerra all'autorità stai facendo la guerra all'Italia intera capite l'autorità che dà lo stato ai singoli per poter compiere tutti 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 gli incarichi di cui lo stato ha bisogno per andare avanti quindi vedete quando uno si ribella un uomo in realtà quando uno si ribella un servitore di Dio in realtà non si sta ribellando a quell'uomo ma a Dio e quindi è Dio è chiamato in causa ed è Dio che interverrà per risolvere poi la questione ora andiamo come si concluse questa ribellione lo leggiamo dal versetto 28 quindi saltiamo andiamo al versetto 28 e Mosè disse da questo conoscerete che l'Eterno mi ha mandato per fare tutte queste cose e che io non le ho fatte di mia testa vedete lo stesso Mosè lo stesso Mosè lo dice cioè quello che Mosè ha fatto non le ha fatte perché le ha volute fare lui o si è chiamato lui di farle le ha fatte perché Dio gli ha detto di farle e se quindi per farle doveva essere in quella posizione doveva essere alla conduzione del popolo se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini l'Eterno non mi ha mandato ma se l'Eterno fa una cosa nuova se la terra apre la sua bocca e li ingoia con tutto quello che appartiene loro e se essi scendono vivi nel soggiorno dei morti allora riconoscerete che questi uomini hanno disprezzato l'Eterno vedete Mosè lo dice questi uomini non si sono ribellati a Mosè ma a Dio l'hanno disprezzato hanno disprezzato quello l'opera che Dio ha compiuto le scelte che Dio ha compiuto capite non possiamo noi criticare ribellarci alle scelte che Dio ha fatto se Dio fa una scelta è quella capite Dio fa quello che vuole Lui noi non possiamo criticare quello che Dio ha fatto e avenne come egli ebbe finito di proferire tutte queste parole che il suolo si spaccò sotto i piedi di coloro la terra spalancò la sua bocca e li ingoiò essi e le loro famiglie con tutta la gente che apparteneva a Core e tutta la loro roba e scesero vivi nel soggiorno dei morti la terra si richiuse su loro ed essi scomparvero di mezzo all'assemblea tutta Israele che era attorno ad essi fuggì alle loro grida perché dicevano che la terra non inghiottisca anche noi pure e un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e divorò i 250 uomini che offrivano il profumo poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo di a Eleazar figliolo del sacerdote Aronne di trarre i turiboli di mezzo all'incendio e di disperdere qua e là il fuoco perché quelli sono sacri e dei turiboli turiboli di quegli uomini che hanno peccato al prezzo della loro vita si facciano tante lamine battute per rivestirne l'altare poiché sono stati presentati davanti all'Eterno e quindi sono sacri e serviranno di segno ai figlioli di Israele vedete quello quello che accadde praticamente siccome loro volevano dire che erano in grado erano abbastanza santi e puri da poter offrire dei profumo davanti a Dio nel tabernacolo non solo i sacerdoti che Dio aveva stabilito ma tutti potevano farlo quelle persone che si avvicinano quei 250 che si avvicinarono con quel profumo che non non era loro dato di presentare davanti all'Eterno uscì un fuoco che li divorò cioè mentre Core e altri con tutta la propria discendenza con tutti quelli che comunque li seguirono si spaccò la terra sotto i loro piedi e scesero vivi nel soggiorno dei morti nel soggiorno dei morti si trova al centro della terra chiamato anche Hades che attualmente quel soggiorno contiene e accoglie tutti coloro che muoiono tutte quelle anime che muoiono che sono perduti nei falli e nei peccati vanno a finire lì all'epoca in cui scesero Core Datan e Abiram e gli altri in quell'epoca c'era anche il seno di Abramo che era abitato cioè quella parte dell'Hades che c'erano diciamo quelli che erano salvati si trovavano comunque lì questi furono liberati dopo quando Gesù risuscitò dai morti liberò questi che erano nel seno di Abramo e li portò in cielo quindi quelli che muoiono in Cristo mantenendosi fermi nella fede adesso vanno direttamente in cielo mentre prima della risurrezione di Gesù Cristo andavano tutti tutti diciamo i salvati e i perduti andavano tutti nell'Hades solo che i perduti andavano nella parte dove che erano due zone separate andavano quelli perduti andavano nella parte dove venivano tormentati da una fiamma di fuoco e ancora oggi c'è queste fiamme che tormentano le anime dei malvagi che vanno a finire lì l'inferno esiste c'è ed è un luogo terribile su cui cadere su cui andare a finire e così avvenne vedete questa è la storia della ribellione di Core di Datan di Abiram di On e di tutti gli altri ma da notare vedete che morirono questi che presero la parola che parlarono con Mosè ma morirono anche tutti quelli che erano vicini a loro capite quelli che non presero le distanze è importante fratelli non farsi cogliere purtroppo lo so è spiacevole non pensiate che per chi applica la disciplina sia una cosa piacevole o che lo si fa a cuore diciamo con un cuore tranquillo lo si fa con un cuore piangente però quando si arriva e si vengono a sapere determinate cose la disciplina deve essere applicata con tutto quello che ne consegue se qualcuno si trova dalla parte sbagliata della disciplina sappia che il Dio non si compiace di questi stolti non si compiace o veramente uno trova deve accertarsi bene dei fatti chi ha ragione e chi ha torto e allora tu ti devi sempre mettere dalla parte di chi ha ragione però non è che puoi stare da tutte e due le parti e anche se ti trovi solo dalla parte di chi ha torto ne pagherai le conseguenze così stanno le cose il Dio verrà il momento che opererà e manifesterà i cuori e la condotta delle persone è solo una questione di tempo guardate abbiate pazienza e i cuori si manifesteranno ora un'altra cosa un'altra cosa che avviene in mezzo al popolo di Dio e che non deve avvenire è quello di mormorare cioè quello di parlare all'orecchio quello di parlare di nascosto male di determinate persone dei servi di Dio ma anche di altre persone parlare male per distruggerli capite per distruggerli questo questo mormorare o questo modo di fare maldicente di parlare male contro i fratelli le sorelle contro i servitori di Dio non è non è non è non è non è conforme alla alla verità di Dio infatti Giacomo cosa ci dice ci dà un ordine dà un ordine ai santi noi andiamo a leggere adesso nel libro di Giacomo epistola di Giacomo Giacomo al capitolo 5 guardate questo questo è un ordine che dà Giacomo fratelli non mormorate gli uni contro gli altri onde non siate giudicati ecco il giudice è alla porta chi è che giudicherà perché vedete se uno mormone parla di nascosto fa il maldicente sparge maldicenza contro fratelli e sorelle può darsi anche che queste cose non si vengano a sapere può anche darsi però ci penserà il Signore perché il Signore lo sa chi è maldicente chi mormora chi è ribelle lo sa uno può anche nascondersi può anche rimanere nascosto agli uomini ma non può rimanere nascosto a Dio il comando è questo non mormorate gli uni con gli altri non bisogna parlare male degli altri attenzione parlare male nel senso non non stiamo il riprendere le opere infruttuose che il fratello compie non è parlare male quello attenzione ammonire un fratello però ogni cosa deve essere fatta bene vi faccio un esempio se il fratello lo puoi ammonire riprendere privatamente perché lo devi fare pubblicamente cioè qual è la necessità perché si si deve anche ci sono momenti e situazioni in cui si può anche riprendere le opere infruttuose delle tenebre pubblicamente lo si deve fare ma attenzione perché se tu lo fai e ti sbagli tu stai mettendo in difficoltà il fratello stai facendo una cosa sbagliata stai mormorando stai facendo maldicenza e ti attiri i giudizi di Dio capite ti attiri il giudizio di Dio quindi ammonire riprendere si deve fare però lo devi saper fare bene al momento giusto nella maniera giusta alle persone giuste perché se ti sbagli se ti sbagli dopo ti attiri ti attiri dei giudizi dei giudizi da Dio capite quindi attenzione se devi riprendere far correggere un fratello una sorella lo devi fare bene e se no puoi scadere nel nel mormorio e nella maldicenza e si lo stai facendo solo per attaccare fratello e in maniera esagerata e per mostrare te stesso quindi ti stai gonfiando capite quindi bisogna farlo bene anche questo comunque Giacomo ordina di non mormorare quindi non parlate di nascosto contro i fratelli perché se avete qualcosa contro un fratello chiamate lui direttamente parlategli e vedrete che la cosa si risolverà non c'è bisogno di parlare male capite perché attenzione l'uomo può anche non saperlo però il giusto giudice lo vede e dopo cosa farà manderà i suoi giudizi giusti e saranno giudizi giusti quindi attenzione fate attenzione anche a non mormorare vediamo alcuni esempi voglio citarvi alcuni esempi di mormorio ingiusto che apparentemente può sembrare giusto ma invece non lo è quindi andiamo a leggere al capitolo 20 di Matteo al capitolo 20 di Matteo dove si parla dove Gesù racconta la parabola dei lavoratori delle diverse ore delle diverse ore come facciamo a dire che è una parabola qui dice al versetto 1 21 di Matteo poiché il regno dei cieli è simile quindi sta parlando è una parabola una similitudine vedete perché perché io devo devo saper identificare riconoscere quando un racconto è un semplice racconto di un fatto realmente accaduto oppure è una parabola quindi se c'è scritto come è simile è una parabola se ci sono scritte delle parole che mi fanno capire che è una parabola che è una similitudine allora posso dirlo allora posso dirlo che è una parabola altrimenti è un racconto veramente accaduto quindi anche questo ve lo ricordo affinché voi quando andate a leggere un passo un passo una storia nella Bibbia sappiate cosa andare a cercare per prima per capire se è una parabola oppure un racconto in questo caso qui dice Gesù è simile a un padron di casa quindi quindi sta parlando di una parabola cosa è successo è successo che ha chiamato dei lavoratori a lavorare nella sua vigna no? e li ha chiamati a diverse ore qui dice quello che ha lavorato tutto il giorno perché è stato chiamato la mattina presto è appattuito il padron di casa ha appattuito un prezzo con quelli poi nelle varie ore del giorno è andato a chiamare altri fino a chiamare l'ultimo che era ormai già la serata era finita e ha lavorato pochissimo ora dopo che questi hanno lavorato cosa è successo? è successo che poi è venuto il momento di pagarli e noi adesso leggiamo la parte dal versetto 20 nel capitolo 20 versetto 8 di Matteo dove leggiamo la parte che ci interessa del pagamento poi fattosi sera il padron della vigna disse al suo fattore chiama i lavoratori e paga loro la mercede cominciando dagli ultimi fino ai primi allora venuti quei dell'undecima ora ricevettero un denaro per uno e venuti i primi pensavano di ricevere di più ma ricevettero anch'essi un denaro per uno e ricevutolo mormoravano mormoravano contro il padrone di casa dicendo questi ultimi non hanno fatto che un'ora e tu li hai fatti pari a noi che abbiamo portato il peso della giornata e il caldo ma egli rispondendo a un di loro disse amico io non ti fo alcun torto non convenisti mecco per un denaro prendi il tuo e vattene ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te non mi è lecito far del mio ciò che voglio o vedi tu di malocchio che io sia buono così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi vedete cos'è successo questi pensavano di aver subito un torto quelli che avevano lavorato tutta la giornata hanno ricevuto un denaro come lo hanno ricevuto tutti gli altri che hanno lavorato di meno però attenzione qui il punto è legato a un fatto la paga non è legata alla quantità di lavoro per tutti ma è legata piuttosto all'accordo che il padrone di casa ha fatto capite cioè non è quello che tu pensi di meritare che riceverai ma è quello che Dio ha stabilito per te se per un altro ha stabilito cose diverse da quelle che dà a te tu non devi mormorare tu non devi essere geloso invidioso e accanirti contro quella persona parlando male capite perché Dio che ha stabilito se uno ha qualcosa e l'altro ne ha un'altra è Dio che ha stabilito così quindi non è giusto mormorare parlare male di quella persona neanche parlare male di Dio che ha stabilito le cose in questa maniera quindi da un punto di vista umano come ragioniamo come i sindacalisti sindacalisti ragionano tanto lavori tanto devi essere pagato questo è il ragionamento umano ma il ragionamento di Dio non è questo il ragionamento di Dio è un altro è questo invece che lui ha fatto io do la paga che voglio capite come poi del resto tutte le cose perché vi ricordo anche per quanto riguarda la salvezza e Dio ha detto io farò misericordia a chi vorrò fare misericordia lui non ragiona come ragionano gli uomini capite il Dio ragiona a modo suo e nella parola di Dio noi comprendiamo il modo di ragionare di Dio noi dobbiamo capire il senso delle cose dal punto di vista di Dio non soltanto dal punto di vista umano che può non trovarsi d'accordo con quello di Dio ma noi dobbiamo 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 stare dalla parte di Dio invece magari certe cose non le comprendiamo però sappi che se sei dalla parte di Dio sei dalla parte giusta perché Dio fa le cose giuste non le comprendiamo talvolta però è giusto capite quindi non bisogna guardare di malocchio se Dio a qualcuno gli ha dato degli incarichi gli ha dato qualche dono gli ha dato qualcosa che a noi non ha dato non dobbiamo guardarlo con invidia o di malocchio capite perché Dio fa del suo ne fa quello che vuole semmai cosa devo fare anch'io desidero quella cosa lì va bene mettiti in preghiera e la domandi a Dio vedrai che se non ti da quello qualcosa comunque ti darà il Signore perché non ti lascerà non ti lascia da solo non ti lascia senza niente ogni preghiera avrà il suo premio quindi anziché farsi prendere dall'invidia dalla contenzione dal malo da guardare male con malocchio quelli che hanno ricevuto qualcosa da Dio è preferibile è preferibile che uno si metta in preghiera e domanda quello che desidera di cui ha bisogno lo domanda a Dio ora leggiamo un altro passaggio che troviamo in Lucca questo è una contestazione avvenuta nei confronti di un caro fratello di un dottore di un dottore della parola gli è stato contestato le stesse cose che sono state contestate a Gesù e agli apostoli cioè questo per farvi capire che non succede nulla che non sia scritto capite cioè tutto quello che avviene alla fine è scritto ecco perché noi conoscendo le scritture conoscendo le scritture noi sappiamo quello che avviene è avvenuto e avviene ancora oggi e avverrà anche in futuro ora leggiamo capitolo 5 del Vangelo di Luca dal versetto 27 e dopo queste cose egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco della gabella e gli disse seguimi ed egli lasciata ogni cosa si levò e si mise a seguirlo e Levi e gli fece un gran convito in casa sua e c'era gran folla di pubblicani e di altri che erano a tavola con loro e i farisei ed i loro scribi mormoravano mormoravano contro i discepoli di Gesù dicendo perché mangiate e bevete coi pubblicani e coi peccatori e Gesù rispondendo disse loro i sani non hanno bisogno del medico bensì i malati io non sono venuto a chiamare dei giusti ma dei peccatori al ravvedimento cosa dice qui qui dice ci fa capire che i farisei mormoravano contro Gesù e i discepoli che si misero a mangiare a fare comunella con determinati peccatori e pubblicani che erano peccatori capite infatti un fratello è stato è stato contestato gli è stato contestato perché accoglieva determinati fratelli che frequentavano una certa comunità e questo questo è un ragionamento settario che noi disconosciamo io se voglio frequentare dei fratelli di tutte le denominazioni li frequento stando attenti affinché loro imparino non che loro devono trasmettere a noi le loro falsità ma noi dobbiamo trasmettere loro la verità capite quindi se il senso è questo ben vengano i fratelli che accolgono i bisognosi spirituali per ammaestrarli e guidarli nella verità quindi rendetevi conto quanto è insensato uno che può fare questi ragionamenti accusare il fratello di accogliere persone che fratelli che vanno in determinate comunità che noi magari diciamo che vanno abbandonate intanto vanno abbandonate quando una persona è convinta ed è arrivato il momento e si sente di farlo quindi non è che si abbandona così una comunità quando lo dicono gli altri uno deve essere convinto ne deve essere convinto anche perché è certo che certe comunità vanno abbandonate perché lì si riceve solo veleno e male capite vanno abbandonate però noi sappiamo anche che queste cose avvengono avvengono al momento giusto quando viene il momento che uno si sente di poterlo fare quando è finito il suo tempo di stare in quel luogo capite quindi anche questa accusa viene mossa verso i discepoli del Signore verso i ministri del Signore vedete ed è avvenuto proprio questa contestazione è avvenuta simile a questa e questa dimostrazione ancora che sono nell'errore i mormoratori i ribelli sono 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 quelli che insegnano dottrine diverse quelli sono nell'errore capite sono nell'errore e bisogna stare attenti vedete come è importante tenere lontane queste persone che se capiscono che hanno sbagliato allora vedete ci si può di nuovo dialogare e prendere contatti ma fino a quando non capiranno che il loro ragionamento è sbagliato continueranno a mormorare a criticare a parlare male dei fratelli che fanno determinate cose come i farisei nella stessa maniera come i farisei e gli scribi mormoravano e parlavano male contro Gesù e i discepoli che mangiavano con i pubblicani ma Gesù gli ha risposto non sono i sani che hanno bisogno del medico bensì i malati questi mormoratori vanno a centellinare determinati discorsi e determinate virgole che facciamo no che altri fanno per trovare l'errore per poterli accusare però non vanno a leggere le cose che rispondono alle loro alle loro questioni alle loro opposizioni vedete che Gesù ancora oggi rivolge queste parole a questi insensati ribelli e mormoratori e gli dice che sono i sani che hanno cioè sono quelli che hanno un problema che hanno bisogna a cui bisogna parlare accogliere e cercare di sbrogliare la situazione non è che abbiamo piacere di frequentare certo anche quelli che problemi non ne hanno e ci incontriamo così e stiamo tutti bene ma hanno bisogno di una parola soprattutto quelli che ne hanno la necessità che che hanno un certo problema capite però purtroppo i mormoratori i mormoratori una volta che si trovano in quella strada della ribellione e del mormorio è difficile che che comprendano cioè non gli è dato sono accecati dalla gelosia e dall'invidia capite una volta che sono accecati da queste cose non riescono poi a rientrare poi nella strada non riescono più a vedere le cose come devono essere viste dal punto di vista biblico ora parliamo delle dottrine diverse che poi sono le altre cose perché c'è questo il caso l'ultimo caso che abbiamo dovuto affrontare riguardava anche certi insegnamenti che venivano venivano insegnati parlavano insegnavano dottrine diverse che dottrine diverse diverse da chi dall'uomo da noi quando si parla di dottrine diverse non è che si parla di dottrine diverse da una religione all'altra capite qui si deve prendere come punto di riferimento le dottrine insegnate da Gesù e dagli apostoli quindi quando noi parliamo di dottrina diversa non è dottrina diversa dalla nostra quindi uno no la dottrina diversa è una dottrina diversa da quello che insegnavano gli apostoli e Gesù capite quindi prima di tutto bisogna bisogna studiare quello che insegnava Gesù e gli apostoli e noi ci studiamo appunto di fare questo di insegnare soltanto cioè non di aggiungere non di togliere di inventare dottrine di aggiungerle o di toglierle noi ci basta insegnare quello che ha insegnato Gesù e gli apostoli quello che poi leggiamo nella parola di Dio non ci inventiamo nulla perché se uno esce dalle scritture comincia a gonfiarsi quando uno comincia a gonfiarsi quando comincia insegnare cose diverse da quelle che hanno insegnato gli apostoli e Gesù ma se io ripeto gli insegnamenti che ha insegnato Paolo ma di che cosa mi devo vantare se sto girando l'insegnamento dell'apostolo Paolo non sto facendo altro che diciamo citare quello che ha scritto l'apostolo Paolo quindi io non ho nulla di cui vantarmi e così deve essere per tutti quelli che parlano dobbiamo tutti parlare solamente di quello che è scritto nella parola quindi non abbiamo nulla di cui vantarsi non è che abbiamo rivelazioni speciali diverse che nessuno ha no sono cose vecchie sono tutte cose vecchie che noi insegniamo sono tutte cose vecchie che da migliaia di anni vengono insegnate perché sono scritte nella parola di Dio nel vecchio come abbiamo citato anche il vecchio oggi vecchio testamento e nel nuovo testamento capite quindi non bisogna gonfiarsi quando uno insegna insegna dottrine diverse da quelle di Gesù e degli apostoli è lì che si gonfia capite infatti questi poi sono anche mormoratori e ribelli non solo insegnano dottrine diverse ma leggiamo a riguardo delle dottrine diverse l'Apostolo Paolo scrive queste parole al giovane Timoteo alla prima epistola Paolo a Timoteo gli scrive queste parole voi sapete lo leggiamo e lo dice lo dice qui ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia di rimanere ad Efeso per ordinare a certuni che non insegnino dottrina diversa né si occupino di favole e di genealogie senza fine le quali producono questioni anziché promuovere la dispensazione di Dio che è in fede ci sono qui vedete è un incarico l'Apostolo Paolo aveva dato un incarico a Timoteo di rimanere a Efeso e che cos'era questo incarico Timoteo nell'autorità datagli da Dio e anche dall'Apostolo Paolo doveva ordinare quindi si doveva imporre in tutti i modi doveva ordinare a certe persone che si trovavano nella chiesa che non insegnassero dottrine diverse dottrine diverse l'abbiamo detto sono quelle insegnate da Gesù e dagli Apostoli ecco quali sono le dottrine diverse quindi Timoteo doveva sorvegliare il gregge a Efeso per fare in modo che non ci fossero di quelli che insegnassero dottrine che si allontanavano dottrine lontane da quelle che sono state insegnate da Gesù e dagli Apostoli questo diciamo controllo questo controllo della comunità questo controllo della chiesa di Efeso questa sorveglianza che doveva compiere l'Apostolo sì l'Apostolo Timoteo era Apostolo quello che questa sorveglianza che doveva compiere Timoteo la doveva compiere con autorità quindi doveva ordinare cioè si doveva imporre con queste persone quindi bisognava fare una certa azione infatti quelli poi che ordinavano che insegnavano scusate insegnavano una dottrina diversa se non si pentivano o si conducevano in maniera disordinata non secondo l'insegnamento ricevuto dagli Apostoli ecco che dovevano essere ammoniti e addirittura allontanati come i disordinati di Tessalonica c'erano di quelli che non volevano lavorare ma gli Apostoli non avevano insegnato questo che non dovevano lavorare anzi dovevano lavorare quindi si conducevano disordinatamente in base agli insegnamenti degli Apostoli dell'Apostolo Paolo di conseguenza dovevano applicare la disciplina cioè tu mangia di quello che tu lavori questo ha scritto di fare Paolo a questi credenti che erano a Tessalonica quindi vedete bisogna mettere ordine e c'è necessità fratelli che ci siano dei sorveglianti nella Chiesa e che devono dare degli ordini talvolta e sì quando si tratta di disciplina purtroppo cioè non è che non è che puoi lasciare troppa libertà capite ah vabbè quando lo vuoi fare fallo quando vuoi cambiare idea questa è una falsa dottrina però se te la vuoi tenere non funziona così se uno si sta conducendo male o sta mormorando è un ribelle sta insegnando dottrine diverse questo va allontanato vedete quanto è pericoloso e purtroppo quella persona che abbiamo allontanato noi in ultimo in questo periodo faceva tutte queste cose mormorava si era ribellato all'autorità che Dio aveva costituito e anche insegnava dottrine diverse vedete e quindi non c'era possibilità di 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 tenerlo perché c'erano tutti i presupposti per allontanarlo per salv perché questo per salvaguardare la salute spirituale di tutti i membri della chiesa però il lavoro quindi sorvegliare il greggio è una cosa che Dio ha ordinato ad alcuni capite c'è alcuni fratelli che sono stati costituiti o sono anziani o fanno l'opera dell'anziano oppure sono dei ministri di Dio costituiti da Dio sono costituiti da Dio devono sorvegliare anche il greggio cioè tra le diverse cose che devono fare c'è anche quello di sorvegliare il greggio cioè vedere dove ci sono i problemi le questioni intervenire risolverle e nel caso sia necessario anche espellere quelle persone quei fratelli che non vogliono assolutamente accettare la verità non vogliono non vogliono ravvedersi e accettare la verità bisogna farlo queste purtroppo 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 c'è Dio ha stabilito anche questo i sorveglianti lo devono fare se no Dio gliene chiederà conto capite una cosa se uno non sa niente io non so niente che là un gruppetto stanno litigando non lo so non ci posso fare niente ma se magari un fratello mi chiama e mi dice fratello qui sta succedendo questo e quest'altro ecco una volta che sei investito della problematica bisogna è necessario intervenire per cercare di risolverla capite se no Dio ce ne chiede conto ecco perché dobbiamo dobbiamo agire bisogna agire cercando di agire nella maniera che dice la scrittura non secondo i propri pensieri agire anche ad arrivare anche ad arrivare a anche ad arrivare ad espellere quella persona che non si sta conducendo nella maniera corretta per quanto riguarda ancora vedete Paolo quindi aveva lasciato a Timotio a Efeso per fare in modo che non fossero insegnate dottrine diverse queste cose Paolo le disse anche direttamente agli anziani di Efeso e qui dobbiamo andare a leggerlo al capitolo 20 di Atti degli Apostoli l'Apostolo Paolo trovandosi a Mileto fece chiamare gli anziani di Efeso e gli fece un discorso tutto un discorso ora tra le cose che Paolo gli disse ci sono queste che leggiamo al versetto 28 atti 20 28 Paolo dice a quegli anziani di Efeso che si presentarono disse badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti i vescovi per pascere la chiesa di Dio la quale egli ha acquistata col proprio sangue poi notate cosa dice adesso io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci i quali non risparmieranno il gregge e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé perciò vegliate ricordandovi per lo spazio di tre anni notte e giorno non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime quindi vedete l'Apostolo Paolo ha fatto chiamare gli anziani di Efeso e gli ha detto badate a voi stessi badate al compito all'incarico che Dio vi ha dato di pascere le pecole di sorvegliarle e poi li ha messi in guardia e gli ha detto badate che quando io me ne andrò verranno dei lupi rapaci cioè entreranno quindi da fuori entreranno dei lupi rapaci e vorranno distruggere il gregge e Paolo li avvertiva per stare attenti capite ma non ha detto solo quello ha detto anche questo ha detto ha detto anche di fra voi stessi c'è anche in mezzo a voi sorgeranno quindi oggi magari c'erano gli anziani che facevano svolgevano l'incarico i compiti che Dio gli aveva dato lo facevano bene con tutto il cuore con una buona coscienza con fede vera non finta però sarebbe venuto il momento che in mezzo a loro sarebbero sorti di quelli che avrebbero iniziato a insegnare cose perverse cose false cose storte cose malvagie capite quindi per questa rivelazione aveva Paolo di quella chiesa di quegli anziani infatti lasciò anche Timoteo lo lasciò dopo a Efeso perché doveva badare che non venissero insegnate dottrine diverse dottrine che avrebbero fatto del male alla chiesa ai membri capite Paolo invece cercava di mettere in atto tutte quelle procedure per salvaguardare la chiesa per sorvegliarla però li ha messi in guardia sorgeranno in mezzo a voi stessi uomini che insegneranno cose perverse con quale obiettivo per attirare i discepoli attorno a sé magari volevano che i discepoli non seguissero più l'Apostolo Paolo ma che seguissero loro cioè questi avrebbero voluto che i discepoli non seguissero più Gesù ma loro capite ecco perché è importante quindi considerare il fatto che le dottrine diverse le cose perverse sono tutte quelle dottrine che non sono state insegnate da Gesù e dagli Apostoli se uno insegna cose diverse da queste se uno insegna cose fuori da quello che è scritto nella parola che hanno insegnato Gesù e gli Apostoli gli sta insegnando cose sbagliate e lo sta facendo gonfiandosi e lo sta facendo per attirare a sé i discepoli facendo vedere guardate come sono sapiente io guardate le cose le rivelazioni che ho ricevuto cose che gli altri non hanno ricevuto capite per attirare i discepoli a sé e questa è la situazione quindi vedete questi pericoli c'erano all'epoca dell'Apostolo Paolo ma questi pericoli ci sono ancora oggi questi pericoli di mezzo a noi di fratelli che si mettono a insegnare cose perverse o dottrine diverse ci sono ancora e una volta che vengono scoperti purtroppo vengono ammoniti ad abbandonare le falsità se non lo fanno devono essere espulsi come naturale che sia capite quindi non considerate una cosa brutta bruttissima certo bella positiva non è per noi nel senso dover espellere qualcuno dal nostro mezzo dal mezzo della chiesa cioè non è una cosa bella piacevole però bisogna farlo perché il beneficio la chiesa col tempo ce l'avrà perché non ci saranno in mezzo a lei delle persone che mormorano che insegnano dottrine diverse che si ribellano alle autorità che sono un cattivo esempio che sviano i fratelli dalla verità che insegnano cose perverse capite e fanno molte vittime purtroppo e poi fanno delle vittime in mezzo alla chiesa ci sono quelli che li seguono che non capiscono che li seguono e dopo succede come è successo a core data ne abira a tutti quelli che li hanno seguiti riceveranno il giusto giudizio di Dio tutti quelli che hanno seguito la parte sbagliata questo è questa verrà così stanno le cose così stanno le cose e così è giusto che noi parliamo e così è giusto che noi ricordiamo che ci sono queste cose ed è anche giusto e rientra nella sorveglianza del gregge operare in maniera con autorità ordinare anche come Paolo ha detto che doveva fare Timoteo bisogna ordinare che le falsità non vengano insegnate bisogna imporsi sì bisogna imporsi se queste persone non accettano la riprensione la correzione allora bisogna dividersi bisogna che queste persone siano allontanate devono essere tenuti lontani questo era fratelli e sorelle nel Signore il messaggio che oggi avevo in cuore riportarvi a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén